Dovrebbero concludersi nel novembre del 2024 i lavori e 63 alloggi di via Vigiano ad Ariano Irpino. Ieri infatti sono ufficialmente partiti gli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico alle cosiddette case gialle di Rione Cardito, grazie a un finanziamento di 5 milioni e 750 mila euro. Isolamento termico delle strutture, pannelli fotovoltaici, sostituzione di tutte le caldaie e di tutti gli infissi, ma anche aree verdi. Nuovi luoghi di aggregazione e parcheggi con superfici drenanti e tanto altro, i lavori che interesseranno gli alloggi. Il tutto finalizzato alla creazione di un ambiente moderno e funzionale per i residenti. Continua dunque l'impegno dell'amministrazione Franza che ha ribattezzato il 2023 l'anno dei cantieri. È stato lo stesso primo cittadino ad annunciare l'avvio dei lavori ai 63 alloggi con un lungo posto su Facebook. Una promessa fatta in campagna elettorale, dice Franza, un impegno preso e rispettato. Non ci fermeremo qui e a loro e ai tanti che vivono situazioni di disagio che la nostra amministrazione pone la massima attenzione. Dalla viabilità alle infrastrutture ai servizi in questi anni stiamo seminando perché non si intervenga soltanto sull'emergenza, ma perché si trovino soluzioni definitive ai problemi che attanagliano la nostra città da decenni. Un grazie sentito ai residenti del Rione per la pazienza e per aver creduto e un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile che arrivasse questo giorno. Da ultimo ma non per ultimo Franza ringrazia l'assessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario per l'impegno che ha profuso nel raggiungimento dell'obiettivo. Presto avremo un incontro pubblico, dice il primo cittadino, con i residenti del quartiere, alla presenza dei tecnici che dovranno occuparsi della supervisione dei lavori. Nessuno resterà indietro e dopo aver concluso i lavori di ripristino di Contrada Creta e l'efficientamento energetico della villa comunale del Boschetto Pasteni e dell'Arena Mennea e dopo l'avvio dei lavori presso il campo Renzulli e della strada panoramica si prosegue ora con i 63 alloggi nell'attesa della riqualificazione di tutto il centro storico con gli interventi delle cosiddette cinque piazze di cui l'apertura dei primi cantieri, annuncia Franza, è prevista per metà agosto.